Ne parliamo con Marco Camisani Calzolari, grande esperto di questo tema nel mondo digitale e in libreria con Cyber Umanesimo, edito da Sole 24 Ore. Ciao Marco, buongiorno. Eccoci qua, buona giornata. Ciao, ciao, bentornato naturalmente su Ereti L102.5. Ecco, già questo titolo, Cyber Umanesimo, vuole forse mettere insieme queste due anime e provare a farci capire in qualche modo come gestire dal punto di vista umano le intelligenze artificiali. Ci aiuti un po'? Ma guarda, hai già detto tutto, perché la Giusy Legrenzi è bravissima e quindi quando legge una cosa, pam, ne coglie l'anima. Ma in effetti sì, è così, è così, cioè oggi viviamo in questo mondo in cui l'intelligenza artificiale è sempre più presente dappertutto, lo sarà sempre di più. Noi tenderemo a far fare all'intelligenza artificiale una serie di cose che non abbiamo voglia di fare noi e immaginate quando addirittura sarà incarnata dentro, anzi, inrobottata dentro androidi, antropomorfi e in quel momento ci chiederemo, e quindi ecco che mi sono un po' portato avanti, quanto invece l'uomo debba continuare a rimanere padrone di tutto questo. Perché ricordiamoci che dietro questi motori di intelligenza artificiale ci sono delle aziende che in fondo oggi sono buone, ma domani potrebbero diventarlo meno. E allora dobbiamo continuare a essere noi prima, sia dal punto di vista del lavoro, perché tutte queste tecnologie possono sostituirci, sia dal punto di vista dell'etica, perché poi quando decidono loro decideranno bene, decideranno male, ecco perché ho scritto questo libro che racconta un po' tutto quello che sta succedendo, cerca anche di prevedere alcuni pericoli, alcune criticità, perché no, anche una serie di opportunità e dà alcuni suggerimenti su cosa si potrebbe fare. Sì, Marco, il punto però è proprio questo, ok, ma come si fa a mantenere l'uomo al centro e non farsi travolgere? Questa è la vera domanda a cui siamo chiamati rispondenti. Guarda, ci sono due cose. Lato noi, poveri cittadini, possiamo solamente fare una cosa, essere consapevoli, perché la consapevolezza poi ci permette di scegliere, quindi come sempre la cultura rende liberi. Lato invece chi decide, quindi governi, stati, mondo, eccetera, ecco lì invece possono fare veramente tanto. Adesso l'Europa ha approvato l'AI Act, che è un regolamento che aiuta intanto a definire una serie di limiti. Immaginiamo per esempio il divieto, che pensateci non è così male oggi, di introdurre quello che si dice social scoring, ovvero un punteggio per quello che si fa in più e in meno, che possa in qualche modo influire nella nostra vita, nella possibilità di fare delle cose piuttosto che no. C'era un episodio di Black Mirror che raccontava bene questa ipotesi e l'hanno vietata. Così come hanno vietato il riconoscimento facciale, quello astrascico distribuito, quindi possibilità da parte dell'intelligenza artificiale di sapere dove siamo quando siamo, per strada, in giro, con chi siamo. Ecco, sembrano banalità, ma sono tutti aspetti che invece sono importanti. E poi da lì in poi, pensate appunto all'etica, alle scelte, una macchina, un'automobile che si guida la scuola, ci sarà un momento in cui dovrà scegliere se andare a sbattere, se perché non ha, non può far nient'altro, o colpire un passante, un pedone. Quindi dovrà interrogarsi su questa domanda, allora lo fa, lo farà, chi lo decide. La privacy, anche lì, ecco, tutto questo è in mano oggi a chi stabilisce le regole. In Italia adesso stiamo per introdurre delle leggi a seguito del regolamento europeo, peraltro ho avuto l'opportunità di aiutare il governo come membro della Commissione per la definizione delle strategie per l'intelligenza artificiale, quindi ho dato un piccolo mio contributo. E arriverà, 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 gli Stati Uniti si sono portati avanti, c'è stato il famoso Hiroshima Process che appunto ha stabilito delle regole internazionali, c'è il G7 in corso con la presidenza italiana che ha portato l'AI, l'intelligenza artificiale, come tema. Ecco Marco, quanto siamo attrezzati noi italiani davanti all'intelligenza artificiale? Penso alla pubblica amministrazione, penso agli uffici, penso alle aziende private anche, ne capiamo? Ma guarda, dal punto di vista dell'integrazione, chi comanda, chi decide nella fattispecie in questo momento il governo, dal punto di vista delle aziende anche, hanno consapevolezza, è un tema di cui si parla molto, ok? L'integrazione è un po' lentuccia, ma lo è dappertutto, non solo in Italia. Il grande punto è che in questo momento i motori, quindi chi come dire ne ha poi i reali risultati, i profitti, non sono italiani, non sono italiani ma non sono nemmeno europei, cioè sono prevalentemente americani e si dice, perché sapete che non si sa poi realmente cosa c'è dietro, siano anche cinesi e russi. E quindi cosa accade? Che sì, è un po' come con i social network, no? C'è un grande business intorno o come alcuni grandi e-commerce, ma purtroppo noi vediamo le briciole. Ecco, anche qui questo è il grande rischio. Questa volta però, avendo avuto l'esperienza dei social network, del digitale tradizionale, ci si sta attrezzando, quindi dall'ielo europeo e perché no anche italiano. Ad esempio adesso sono stati messi a disposizione, è stato messo a disposizione un miliardo di euro per lo sviluppo di una sorta di intelligenza artificiale italiana, fatta poi di ecosistemi, di start-up, eccetera. Vediamo dove andremo. La consapevolezza c'è, si tratta di metterla a terra, come dicono i marketer. Sì, infatti. Senti, io ho una domanda a questo punto, non so se incontra il tuo favore, però tutta questa tematica mi fa venire in mente una frase che abbiamo detto tutti per dieci anni, che è la tecnologia. Tutta questa roba non si può fermare. Quindi in realtà noi ci mettiamo lì a fare le leggi europee, italiane, eccetera, ma poi ci sarà qualcuno che va avanti. Fammi capire come viviamo. Una bellissima domanda. Le invenzioni, te ne dico un'altra così facciamo, palleggiamo. Vai, vai. Le invenzioni non si possono disinventare. Eh, hai capito? Perché è anche questo, no? E c'è anche chi dice a questo punto, per andare in quella direzione, che gli Stati Uniti fanno, la Cina fa, eccetera, l'Europa regolamenta. Ok? Quindi è un po' in linea con quello che hai detto tu, per certi aspetti. C'è anche da dire inoltre, ma peggiorativo, che il mondo digitale non ha confini. Quindi tu puoi anche regolamentare quello che vuoi in Europa, però a un certo punto ci sarà sempre, da una dittatura asiatica da qualche parte, un prodotto che è contrario alle nostre regole, che però viene distribuito in italiano sul nostro territorio. E questo è verissimo. Questo è vero. Però allo stesso tempo immaginate una strada senza codice stradale. Cioè è comunque necessario. L'importante è, io non sono contro questo tipo di regole, è giusto che l'Europa regolamenti, secondo quella storiella di prima, però allo stesso tempo deve essere, come dire, parallelamente deve esserci un, quel che si dice, un investimento dal punto di vista della società, industriale. Sì, cioè tu l'ici non si può correre il rischio che si resti tagliati fuori, no? Con l'eccesso di volontà di regolamentare, di mettere tutto nei confini, magari ci sono poi altre realtà che corrono molto più di noi e noi restiamo indietro su questo. E bisogna sperare che non corrano contro mano, perché il CODEB, facendo sempre riferimento alla società stradale, che è bene ma non contro mano. Senti, scusa, una cosa velocissima. Il cambiamento principale, la rivoluzione principale in cui andremo incontro, secondo te, figlia dell'intelligenza artificiale, dovessi sceglierne una? Tra le varie cambiamenti. Sì, guardando i prossimi anni, il cambiamento che ci dobbiamo abituare è magari adesso impensabile, però su quali tu scommetteresti? Beh, tutto quello che sarà poi dopo all'interno di Androidi che ci aiuteranno nelle varie attività quotidiane, in fondo. E questo sarà veramente la grande, grande rivoluzione per tutti noi. Bello, grazie, grazie. Te li aspettiamo questi esseri, grazie a Marco Camisani Calzolani. Nel tempo che stiamo umani. Sei rimasto così tu, sei rimasto male. In libreria con Cyberumanesimo, edito dal Sole 24 Ore, grazie mille e buona Pasquetta a questo punto. Italiana, sappiamo che sei qua. Molto italiana. Molto italiana, siciliana, diciamo così. Grazie, a presto. Ciao, a presto. Viva, ciao. Grazie.